Qualche giorno prima di Natale, all'ora e quattordici, ho avuto un incidente con la mia bici, con un signore con una macchina, in via Gian Santi, di fronte alla chiesa, nella pista ciclabile passavo. E questo signore è venuto da via Gian Santi, certo non mi ha fatto apposta, però è successo, ci siamo scontrati. Sì, al momento andava tutto bene, non mi doveva niente, invece adesso ho dei piccoli problemi, che se questo signore mi viene a trovare o mi telefona, ci mettiamo, vediamo. Ha avuto quindi dei problemi di salute? Quel giorno no, dopo un giorno o due sì, ma anche abbastanza un po' gravi, ce li porto tuttora. Ha avuto dei problemi ad un'altra? Anca mi è andata molto bene, per il fatto dei massaggi, delle pomate, si è risolto il problema. Però adesso c'è altre cosette che darà un po' la lunga, capito?